Gallera, la cosa che però le volevo chiedere è, ha retarguito l'ex ministro Salvini sull'uso della mascherina? Visto che insomma lì in Lombardia Salvini, che da quelle parti viene, dovrebbe saperlo che l'uso della mascherina è piuttosto determinante. Lei è vero che è di Forza Italia e non è della Lega, ma insomma la domanda politica è stato un passo falso quello di Matteo Salvini di dire in più occasioni la mascherina non serve. Guardi, io non redarguisco nessuno, da liberale ci mancherebbe. Liberale ma assessore alla salute però, da ragione. Assessore alla salute dico che la mascherina è assolutamente importante. Noi oggi in Lombardia, visto anche la situazione epidemiologica, riteniamo che all'aperto possa essere tolta quando si è distanti da altri. Quindi un allentamento leggero per la situazione migliore che viviamo e per, voglio dire, il caldo che c'è. Però la mascherina è, così come il distanziamento, sono gli strumenti che dal primo di settembre in poi ci dovranno accompagnare in maniera molto puntuale per evitare appunto una recrudescenza vera del virus o per tentare di scongiurarla? Allora Stefano, vediamo il video...